Un territorio percorso da sentieri per una lunghezza di oltre 300 km, perfettamente segnalati, percorribili a piedi, mountain bike, a cavallo e anche con gli asini. Sono dolcissimi. Loro vivono solo di coccole. Questo è Artù. Il loro pelo è pura terapia. Dove li toccate sono morbidissimi. Ma hanno una pancia così grossa. Il bello dell'asino è perché c'è questa grande empatia fra l'uomo e l'asino. Perché a noi lo paragoniamo al neonato. Il neonato ha il corpo grosso e gli arti piccoli e la testa grossa. L'asino anche da adulto rimane così. Guarda che posto che hanno loro. Che spettacolo di... E ciao L'unica cosa che cerca lui vuole è appoggiare i piccoli e le carette con la leonezza. L'unica cosa che cerca lui vuole è appoggiare i piccoli e le carette con la leonezza. L'unica cosa che cerca lui vuole è appoggiare i piccoli e le carette con la leonezza. L'unica cosa che cerca lui vuole è appoggiare i piccoli. L'unica cosa che cerca lui vuole è appoggiare i piccoli.